ciao a tutti e benvenuti su ideare casa oggi presentiamo il nuovo studio showroom a bologna in via calabria 1a e 1b dove trovate ideare casa e bestaglia per le cucine anche a scelta di finiture in varietinte e testi promo sempre aggiornate su tutte le case di elettrodomestici i vari materiali e colori ma soprattutto potete scegliere come realizzare le vostre casse della cucina struttura in truciolare o pannello ecologico in legno multistrato in legno listellare la caratteristica delle cucine vestalia è proprio per il legno multistrato o listellare per la zona armadi abbiamo cadina armadio armadio sorrevole ed armadio angolo per il legno armadio potrete scegliere se preferite una struttura in pannello ecologico in legno multistrato o in legno tamburato di abete per il mondo bagno abbiamo ampia scelta di arredo bagno miscelatori sanitari piastrelle box doccia piatti d'osa offriamo la progettazione 3d con preventivo gratuito per tutti i mobili per la casa quindi cucine armadi mobili su misura zona giorno zona notte inoltre abbiamo un' offerta casa all inclusive che include trasloco dei vecchi mobili in area ecologica o in deposito progettazione per la ristrutturazione pratiche edilizie ristrutturazione edile trasporto e montaggio dei nuovi mobili e trasporto dei mobili tenuti in deposito dell'appartamento ristrutturato ciao e al prossimo video